Musica Benvenuti al TR24 Sport Il Cesena che venerdì si affaccerà sul match di Verona continua ad interrogarsi sulla differenza di rendimento tra le partite in casa e quelle in trasferta Vediamo Il Cesena che continua a mostrare due facce ha comunque offerto risposte incoraggianti nell'ultima sfida di campionato Il 3 a 1 inflito al Trapani ha restituito un po' di serenità all'ambiente bianconero sempre in attesa del primo lampo anche lontano dal Manuzzi Ma in casa penso che non c'è bisogno di risposte stiamo andando bene, abbiamo vinto tutte le partite fino adesso da quando sono arrivato abbiamo sempre vinto quindi il problema è fuori caso adesso abbiamo pochi giorni per preparare la gara di Verona mi aspetto qualcosa in più fuori caso Interessante sarà vedere chi vestirà la maglia da titolare a Verona tra Agliardi e Agazzi Camplone ostenta tranquillità Quando prendi tre gol in venti minuti devi cambiare qualcosa in settimane sono arrivati tutti bene sono stato molto chiaro con la squadra vedo la settimana e faccio le scelte così come la scelta di Perticone così come la scelta di altri quindi ho scelto Cinelli quindi noi dobbiamo pensare di partita in partita quindi scegli ero di volta in volta Parliamo adesso di basket nel derby di Santo Stefano è l'Andrea Costa ad esultare crolla l'Uni Euro sconfitta alla Pala Galassi col punteggio di 70 a 57 Cronaca di una partita mai nata quella che l'Andrea Costa ha vinto di 13 sull'Uni Euro chiudendo però a quota 70 punti una specie di unicum nella storia dei derby tra queste due società Forlì ha perso perché ha sbagliato tutto il possibile immaginabile in attacco roba da 2 su 28 dalla linea dei tre punti che manco in un film horror di Dario Argento Imola ha così semplicemente amministrato un match in cui i ragazzi di Garelli si sono via via accartocciati su se stessi traditi dalle condizioni fisiche precarie di una Wayne Blackshear ormai ai saluti ma anche dalla prova opaca di tutti i biancorossi scesi in campo escluso Crocket doppia doppia da 18 e 13 l'unico a salvare la faccia davanti alle telecamere di Sky ben altra solidità ha mostrato l'Andrea Costa i cui califfi non hanno mai tradito da Prato a Ranuzzi da Maggioli allo stesso Ubalek i Molesi che adesso navigano in acque tranquille nella classifica di A2 a quota 12 punti a più 4 su una Forlì ormai precipitata nel pozzo di una crisi di cui non si vede il fondo e nel turbolento post partita Gigi Garelli ha affermato a viva voce la sua volontà di rimanere alla guida dell'Unieuro vediamo il perché di questa situazione ci sono varie ragioni sicuramente giocare senza un americano che doveva essere il cardine della squadra non aiuta oggi abbiamo provato il famoso piano B non funziona neanche dopo 15 giorni a male quindi credo che il prossimo passo sarà quello di farne a meno fino al 23 gennaio dopodiché ne prenderemo un altro perché vedo difficile onestamente continuare così non le do le dimissioni te lo ripeto non le do sto qui fino alla fine ho due coglioni così evidentemente dobbiamo cercare di trovare le forze dentro noi stessi per giocare meglio di così e per fare più canestro di così perché io credo probabilmente saremo pure scarsi però non siamo scarsi al punto di fare 2 su 28 da 3 e di tirare il 28% dal campo contro qualsiasi difesa di questo campionato noi per quanto possiamo essere scarsi non possiamo tirare con queste percentuali quindi vuol dire che c'è qualcosa a livello psicologico che ci frena più che soddisfatto invece il coach dell'Andrea Costa Imola Gian Piero Ticchi sentiamo allora le sue parole una vittoria molto importante una partita in un giorno particolare perché sai dopo Natale per noi potevano esserci tanti imprevisti sapevamo che Sperfolli era una partita molto importante abbiamo avuto decisamente un ottimo approccio alla partita ottimo difensivamente abbiamo fatto le cose che i ragazzi sono stati molto bravi a fare quello che gli era stato chiesto siamo riusciti a limitare le uscite blocchi dei migliori tiratori e nel pick and roll li abbiamo un po' messi in difficoltà perché a partire di Mantua erano stati bravissimi ad attaccare le situazioni di blocco sulla palla per cui una partita molto molto buona in difesa chiaramente come ha detto Gigi ci sono stati avvantaggiati perché quando si tira con queste percentuali sicuramente merito nostro un po' c'è per quando un avversario tira col 20% è molto difficile che riesca a vincere La Bunghe che non ti aspetti interrompe il suo digiuno di vittorie lontano da casa andando ad espugnare il palapanini di Modena per 3 a 1 vediamo allora il servizio Il regalo più bello la Bunghe Ravenna se lo è fatto a Santo Stefano ieri i ragazzi di coach Fabio Soli hanno espugnato il difficilissimo campo di Modena col punteggio di 3 a 1 gara valida per la sedigesima giornata di campionato nella terza trasferta consecutiva in appena 12 giorni i romagnoli sono tornati alla vittoria lontano dal pala di Andrè dopo quasi due mesi infrangendo il tabù trasferta che perdurava dal viaggio di Molfetta al palapanini tutto esaurito e riempito in ogni ordine di posto nei suoi 4.600 seggiolini l'uomo partita per i giallorossi è stato Van Garderen ottime prestazioni che hanno sfiorato la perfezione sono state realizzate anche dai compagni Spirito Torres con 4 ace Goy, Marchini, Bossi, Linel e Ricci con 3 muri vincenti La Bunghe passa in vantaggio al primo set 23-25 poi i campioni d'Italia riequilibrano il match sull'1-1 ma alla fine arriva la vittoria con i parziali 22-25 e 20-25 che mettono KO ai padroni di casa in classifica i romagnoli rafforzano l'ottava posizione con 19 punti staccando Molfetta 15 e rimanendo meno 2 da Vibo Valencia Occupiamoci adesso delle notizie che trovate riportate sui fascicoli sportivi dei quotidiani in edicola cominciamo con il Corriere di Romagna fascicolo sprint il Cesena ama da sempre passare il Natale a casa contro il Trapani è arrivata la quarta vittoria di fila al Manuzzi giurice decisivo ma prossimo ai saluti valuteremo eventuali offerte per quanto riguarda poi la voce di Romagna parliamo di un 2016 da due bocciate vincenti di media al mese sono 24 i successi delle nostre squadre nell'anno che si sta chiudendo domina il Monte Gridolfo con 17 ori contro gli 8 della Riccionese chiudiamo con il resto del Carlino Balo torna azzurro questa l'intervista realizzata a Carlo Tavecchio il presidente federale parla del prossimo futuro spero che Mario rientri presto e che sia accettato faremo Serie A e Serie B a 18 squadre con la Juve cerco una pace tranquilla tutti dovrebbero imitare i bianconeri e i Milan ma andiamo adesso a sentire l'opinione di Luciano Poggi in questo martedì spostiamo la nostra attenzione sul basket anche perché è uno sport che in Romagna è seguitissimo e come abbiamo sottolineato in diverse occasioni la Romagna presenta addirittura Alvia ha presentato per meglio dire Alvia attualmente ha tre squadre una delle tre Ravenna addirittura è nelle parti più alte della classifica ma che fa scalpore dopo la sconfitta delle Uni Euro con l'Andrea Costa di Imola ecco perché ne parliamo era un derby ed era attesissimo soprattutto a Forlì che giocava in casa fa scalpore dicevamo la grande contestazione che ormai è diventata generale prima si parlava di una decina di tifosi ora la contestazione è generale all'allenatore della Uni Euro un allenatore che fra l'altro ha esordito nella propria conferenza stampa al termine della sconfitta dicendo la prima cosa che sappiate è che io non mi dimetto e allora ecco che accade quello che non dovrebbe mai accadere quando si parla di sport la rottura totale tra i tifosi e l'allenatore della squadra si dice e si usa dire soprattutto nel calcio che a pagare è sempre l'allenatore ma quando l'allenatore dimostra di non essere assolutamente all'altezza deve assolutamente pagare e con questo è davvero tutto per quanto riguarda questa edizione del TG Sport vi ringrazio per la cortesa di attenzione arrivederci di attenzione di attenzione Grazie a tutti